Treni Pa, andiamo a vedere i treni. Così, nelle afose e serate estive, con mio figlio andavamo alla stazione del paese a vedere i treni. Ci divertivamo. Alcuni passavano veloci, in transito, altri invece si fermavano per un po'. Gente scendeva e altra gente saliva. Mi chiedevo quale potesse essere la destinazione finale di ognuno di loro e i motivi del viaggio. Pensavo al viaggio della nostra vita e al futuro di mio figlio. Una sequenza di stazioni, alcune belle, altre brutte, alcune giuste, altre sbagliate, alcune insignificanti, altre sapienzali. Pensavo fosse importante prendere il treno giusto, quello che ci avrebbe condotti a una buona stazione. Mi chiedevo quale sarebbe stata la prossima stazione buona del nostro viaggio e come riconoscere il treno giusto. Col tempo ho compreso che non è semplice capire quale stazione scegliere e quale treno prendere. Si comprenderà solo dopo essere arrivati e comunque, nel caso, si può tornare indietro o proseguire per una nuova stazione. La cosa importante e determinante è un'altra. E avere le valigie finite e pronte per essere in grado di salire subito sul treno che sta passando in quel momento e sentiamo di voler prendere. I treni non aspettano. che si la notizia in grado di salire subito, non aspettano. Grazie a tutti.